Cari amici, siamo arrivati all'ultima puntata del TG Fipsas per il 2012. È stato un ciclo di trasmissioni per quanto ci riguarda molto intenso ed impegnativo nel quale abbiamo cercato di ragguagliarvi con notizie, foto, classifiche ed immagini sui vari campionati della federazione, quindi non solo di pesca ma anche di nuoto pinnato ed attività subacquee. Non abbiamo travasciato eventi, notizie ed iniziative portate avanti dalla federazione stessa che oltre agli aspetti agonistici ha un ruolo importantissimo nella difesa dei pescatori e dell'ambiente. Sappiamo bene però che abbiamo ancora margini di miglioramento ed è quello che cercheremo di portare avanti con il prossimo ciclo auspicabilmente nella primavera del 2013. Bene, veniamo ora al sommario di questa puntata. L'attività agonistica è arrivata alle ultime battute per questa stagione. Abbiamo il campionato italiano di Trotalago per società di cui vedremo un servizio nel lago Paradise di Teramo. Ancora per rimanere nel Trotalago vi proponiamo un bel servizio filmato realizzato in Campania in occasione della semifinale centro-sud del campionato italiano individuale. Per la pesca al colpo parleremo della conclusione del campionato bancario e del Baza Day ad Ostellato. Per il self-casting dalle spiagge siciliane abbiamo la proclamazione della società campione d'Italia. Chiuderemo infine con un servizio sulla terza edizione di Mondo Pesca con le interviste a Stefano Sarti e dal presidente della Fipsas Claudio Matteoli che tracerà un bilancio del quadriennio olimpico che si va a concludere. Ampio spazio dunque in questo finale di stagione alla specialità della Trotalago cominciando dal campionato italiano di società o di elite come viene comunemente chiamato che si è concluso nel Lago Paradise di Teramo con il solito avvincente duello tra la Soffritti Tubertini e la Garisti Club Daiwa. Domenica 18 novembre si è svolta nello splendido scenario del Lago Paradise di Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo la prova finale del campionato italiano Trotalago 2012 per squadre di società. Hanno preso parte 30 formazioni composte da 4 garisti ciascuna provenienti da ogni parte del territorio nazionale come da precedenti qualifiche. Al termine del campionato le squadre classificate dal 14esimo al 30esimo posto saranno retrocesse ai trofei di serie di appartenenza. La manifestazione è stata impeccabilmente organizzata dalla Big Stone di Teramo guidata dal presidente Renzo Cardone e dal segretario Marco Cianci con la collaborazione della sezione provinciale. Giudice di gara il signor Mario Cacciatore della sezione di Teramo. Nonostante il tempo non sia stato benevolo la gara ha avuto momenti di grande agonismo soprattutto fra le squadre che si contendevano il titolo arrivate all'appuntamento finale divise da pochi punti. Infatti il fortissimo quartetto della Soffritti Tubertini di Verbania, campione in carica con 38 penalità tecniche precedeva dopo tre prove di appena mezza lunghezza lo squadrone della Garisti Club d'Aiva di Padova mentre al terzo posto con 39 c'erano ancora pienamente in lotta i garisti Alessandrini della Red Devils. I cento concorrenti in gara hanno catturato tutto il pesce immesso anzi qualcosa in più per una media di 24 trote a testa della pezzatura media di 124 grammi. La classifica di giornata ha visto primeggiare i concorrenti della Fischer Max di Como che hanno concluso con sette penalità tecniche con Berto primo assoluto di giornata e poi Negri, Ballarin e Piazzolla che hanno preceduto di mezza penalità lo squalo di Varese. Ma ai fini della classifica finale è stato determinante il risultato della Garisti Club d'Aiva di Padova che col terzo posto con 10 penalità ha vinto il titolo precedendo per un non nulla la soffritti Tubertini che a sua volta ha chiuso l'ultima prova a quota 11 e che quindi cede il titolo conquistato nel 2011 soltanto per mezza penalità. Al terzo posto si è classificata la top team Maver di Macerata. La classifica finale individuale ha visto primeggiare i due alfieri della Garisti Club Alberto Benetazzo e Giovanni Vigo finiti nell'ordine entrambi a sette penalità davanti a Luca Mininni dello squalo. Ed ecco appunto le immagini della premiazione finale affidata al presidente Coni di Teramo Italo Canaletti. Salgono prima sul podio i terzi classificati Bassani, Monte Chiarin, Corsetti e Sambuchi della top team Maver di Macerata. Argento quindi per la soffritti Tubertini con Venturelli, Rubis, Pasqua e Verniasco. E titolo con applausi e maglia azzurra scudettata per il quartetto della Garisti Club d'Aiva di Padova con Vigo, Benetazzo, Gallo e Mantovanelli. Insomma Ancora una volta i due migliori club non si lasciano sfuggire un titolo che passa dalla soffritti alla Garisti Club in un'affascinante alternanza di risultati. Rimaniamo nella Trota Lago per proporvi la semifinale centro-sud del campionato italiano individuale. L'evento è avvenuto qualche tempo fa ma ve lo proponiamo perché ci è pervenuto da parte del comitato regionale della campagna un filmato davvero ben curato dal quale abbiamo estrapolato alcune immagini. In questa mite domenica di ottobre ci troviamo a Torcino, a pochi chilometri dalla comune di Ciorlano in provincia di Caserta. Oggi assisteremo alla prova di semifinale zona sud del campionato italiano individuale di pesca trota al lago. Ottanta i concorrenti provenienti dal centro e sud Italia. Ferre e ben chiare le regole, consentite solo eschevive, allo stato naturale, senza alcun colorante, vietata la pasturazione. Niente, prepararsi bene a questa gara perché non deve essere trascurato nulla e dare soprattutto la massima tranquillità ai concorrenti che sono loro i protagonisti di questa manifestazione. Tu sei solo il reggista. Il campo di gara si trova in una riserva di pesca sportiva di eccezionale bellezza. La valenza di questo territorio era ben nota già nei secoli scorsi, tanto che Carlo III di Borbone acquisì il bosco di Torcino per adibirlo a riserva di caccia. L'organizzazione e la gestione della gara sono a cura della società Amodoro di Teano. Il lago è un lago che risponde sempre molto bene alle nostre aspettative. Di fatti chi viene qua per queste gare in genere chiede anche in situazioni future di poter ritornare perché il lago è pescoso, l'ambiente è bello, è salobre, è pulito, abbiamo un'accoglienza fantastica anche da parte del gestore per quanto riguarda l'organizzazione. I 90 minuti di gara si svolgono all'insegna della tranquillità e della correttezza. Dopo una prima fase in cui sono stati avvantaggiati concorrenti velocisti, la gara si è fatta più di ricerca e dunque più tecnica. Dopo il segnale di fine gara si è proceduto alle operazioni di pesatura e alla stesura della classifica. I 35 concorrenti con il miglior piazzamento parteciperanno alla finale di Vicenza il 3 e 4 novembre per l'assegnazione del titolo di campione italiano Trota Lago 2012. La manifestazione ha registrato una buona resa del pescato, circa 163 kg, a fronte dei 160 immessi in acqua. Alla premiazione, che normalmente non è prevista per questo tipo di gare ma è stata fortemente voluta dalla società organizzatrice, hanno preso parte Pari de Compagnone, assessore allo sport del comune di Teano, che ha patrocinato l'evento, e il presidente Fipsas Campania, Pari de Parente, che ha premiato i primi tre classificati, Gianfranco Di Sante, Luigi Pistilli e Alessio Cioni. Il campionato italiano per società di self-casting si è svolto in tre prove sulle spiagge siciliane di Macchitella di Gela per l'organizzazione del casting team Gela. Al via agli ordini del giudice di gara Roberto Costa e del direttore Antonino Zagarini, l'elite nazionale di questa disciplina con 20 squadre tratte dai due trofei eccellenza Nord e Sud, oltre a due partecipanti al campionato del mondo. A livello individuale il migliore è stato il palermitano Francesco Romano con 12 penalità per 18 catture per un totale di 288 centimetri. Sì perché trattandosi del catch and release il pesce non viene pesato ma misurato e poi rimesso in libertà. A conquistare il titolo 2012 è stato il club Blue Crab self-casting di Treviso che ha visto premiata la sua lunga trasferta imponendosi con 73 penalità davanti all'assalento Due Mari Maver e dal self-casting Adriatic di Pesaro. Le prime due classificate rappresenteranno i colori azzurri al mondiale per club. Durante il Tg, ricorderete, ci siamo occupati spesso, abbiamo seguito tutte le prove del campionato italiano bancarie, una categoria peraltro dove militano fiordi agonisti che si è svolto in quattro gare. Il torneo è stato dominato dalla squadra della Banca Popolare Emilia Romagna di Modena che si è installata al comando e non lo ha più mollato. Per la verità nell'ultima prova svoltersi ad Ostellato e vinta dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, la BP Milano e la Anton Veneta hanno tentato un recupero ma poi si sono accontentate di finire sul podio nell'ordine dietro ai modenesi. La classifica individuale ha visto il successo di Luca Caslini, un nostro collaboratore di Italian Fishing TV, che si è imposto su Zampolli e Mazzini. Nella scorsa puntata ci siamo soffermati sui cosiddetti aziendal days svoltisi nella due giorni di Ostellato. Mancava all'appello il team Baza che ha radunato i suoi estimatori alle Vallette il 18 di novembre. Un'ottantina i presenti, nonostante il meteo non favorevole e la stagione avanzata, che hanno offerto un bel colpo d'occhio sulla sponda di Covato. Il più bravo è risultato Corrado Pedrini, che è anche presidente della gloriosa Amo Panigale di Bologna, con 6,6 kg, con dentro anche due bei carazioni. Al secondo e terzo posto Danieli e Zilioli. Più forte delle alluvioni che ha dovuto passire e che sta passendo tuttora, Carrara si è rialzata con un evento di grande rilievo e successo, la terza edizione di Mondo Pesca. Vediamo il servizio con a seguire le interviste a Stefano Sarti e al presidente della Fipsas Claudio Matteoli. Dal 23 al 25 novembre si è svolta a Marina di Carrara, presso i padiglioni di Carrara Fiere, la terza edizione di Mondo Pesca. La manifestazione ha riscosso un notevole successo, centrando il suo intento principale, ossia quello di coniugare l'intera filiera della pesca, avvicinando la pesca sportiva e ricreativa con la piccola pesca professionale. Quest'anno per la prima volta erano presenti con il loro stand ufficiali anche aziende del calibro della Tubertini di Bologna, della Trabucco di Parma e della Colmich di Firenze. La rassegna fieristica è stata poi arricchita di contenuti sia da un punto di vista sportivo, con la disputa di svariate competizioni, sia di surfcasting che di canna d'arriva e di pesca alla trota. Inoltre sono state allestite apposite aree per l'angolo dell'esperto, dove tecnici e campioni delle varie discipline, coordinati da Jonathan Paulicchi, hanno illustrato i dettagli delle varie tecniche di pesca. Si sono poi tenuti alcuni interessanti workshop, integralmente ripresi da Italian Fishing TV, fra cui uno dedicato al tema delle barriere sommerse, un paio delle quali verranno realizzate proprio in questo litorale altotirrenico. Un altro si è occupato dei campi di gara per la pesca al colpo, con distribuzione sul territorio e problematiche. Ed infine un altro workshop ha riguardato il progetto Shark Life, consistente nel raccogliere ed elaborare dati e notizie sugli squali e tutti gli elasmobranch attraverso la loro taggatura e conseguente rilascio nelle battute di pesca sportiva ed agonistica. A Mondo Pesca era presente con un proprio stand Italian Fishing TV, e naturalmente la Fipsas nazionale, con l'allestimento dei simulatori di pesca e di tiro col fucile subacqueo, come sempre presi d'assalto da appassionati e curiosi. Importante la presenza di stand istituzionali, quali quello delle regioni Sicilia, della Liguria e della Coldiretti. Legittima la soddisfazione per il crescente successo dell'iniziativa, espressa dal presidente di Carrara Fiere, Paris Mazzanti, e dalla locale sezione Fipsas di Massa Carrara, condotta dall'inesauribile Stefano Sarti. Presidente Matteoli, un anno, il 2012, ma non solo, un quadriennio, si sta per chiudere. Qual è il bilancio dell'anno che si sta chiudendo, e più in generale del quadriennio? Innanzitutto da un punto di vista dei risultati sportivi. I risultati sportivi, l'anno bellissimo, il quadriennio eccezionale, perché quest'anno sono stati vinti tanti titoli, forse più del solito a livello annuale, e non solo nella pesca, quindi non solo nelle attività a cui siamo più o meno abituati a vincere, o quantomeno andare sul podio, ma bellissimi risultati anche dal nuoto vinnato, con una serie di record mondiali, bellissimi risultati nella Pnea, dove c'è una ragazza che è emersa nell'ultimo anno, che vince e stabilisce i record mondiali della Pnea, che sono a livello di quelli maschili, quindi Ilaria, Bonini, esatto. Quindi grandissimi risultati quest'anno, con tante medaglie, tante soddisfazioni. Poi se si parla del quadriennio, non si può non ricordare i giochi mondiali della pesca dell'anno scorso, che oltre a averci portato una serie di titoli elevatissima, quello devo dire la verità, ci speravo, l'avevo un po' messo nel conto, poi un po' più, un po' meno, è andata benissimo, ne abbiamo vinti tanti, ma quello che mi ha dato più soddisfazione è stata la dimostrazione di potenza organizzativa della federazione. Ancora oggi io ricevo congratulazioni da tantissimi paesi del mondo, perché lì veramente la federazione ha fatto vedere organizzativamente cos'è capace di mettere in piedi e di portare avanti, con ottimi risultati, devo dire che i giochi sono stati veramente belli, una bella cerimonia d'apertura a Firenze, molto bella, poi i campionati mondiali, quest'anno erano 26, 26 delle più diverse discipline, tutti insieme. Comunque posso dire, senza tema di essere smentito, che a livello mondiale questi giochi o li organizza la FIPSAS, o li organizza la FIPSAS, è vero che un anno sono stati fatti in Portogallo, però mi ricordo che l'aiuto della FIPSAS fu determinante. No, assolutissimamente, perché quelli che sono stati fatti in Portogallo, a parte il fatto che lì addirittura i chilometri erano molti di più, perché lì era su tutto il Portogallo, ma in più tenete presente che tutta la parte organizzativa, classifiche, risultati e compagnia è stata fatta tutta, coperta interamente da persone e personale volontarie della federazione italiana, quindi, no, sono d'accordo con te, non credo che ci fosse esiste un paese al mondo in grado di mettere in piedi. Poi noi abbiamo, a parte l'organizzazione della federazione, a parte le volontarie, a parte i dipendenti, ovviamente, abbiamo la possibilità, perché abbiamo tutte le acque possibili e immaginabili, cioè da noi le 26 discipline ai 26 posti o campi di gara, dove le puoi fare scegliendo, perché magari ce n'è anche 30, neanche 40, trovare un posto che riesca a mettere in piedi tutte le strade, ci vuole le montagne perché ci vuole le trote, ci vuole i fiumi di pianura, cioè non è facile, l'Italia. Quindi da un punto di vista sportivo e agonistico abbiamo detto, tutto ok, abbiamo già parlato anche dell'aspetto organizzativo, ecco da un punto di vista più propriamente, tra virgolette, politico, come si è mossa la federazione e quali risultati concreti siamo riusciti eventualmente a raccogliere. Allora, ti vorrei fare una distinzione fra quello politico e quello amministrativo, amministrativo intendo il tesseramento fondamentalmente. L'unico neo vero di questo quadriennio è stato proprio quello, perché nel quadriennio precedente eravamo riusciti a crescere il tesseramento, a aumentare come il numero di tesserati, a far sì che in federazione ci fosse più gente che si avvicinava. In questo quadriennio la crisi economica si è fatta sentire, cioè abbiamo perso tesserati, abbiamo perso tesserati e ti devo dire che è proprio evidente la crisi economica, perché abbiamo perso pochissimi tesserati o abbiamo tenuto nella parte agonistica, cioè chi fa agonismo che ha la fissazione dell'agonismo come pesca, lo zoccolo duro, non mangia ma va. Chi è un buon 60% dei nostri tesserati considera la pesca come passatempo, come lobby, è chiaro che quando è in restrettezza economica prima mangia e poi eventualmente va a pescare. Quindi abbiamo perso dei tesserati sulla parte ricreazionale, ricreativa, non su quella sportiva agonistica. Invece da un punto di vista politico sono contentissimo, perché io quattro anni fa avevo promesso a un'assemblea che mi sarei occupato della parte che riguarda il mare e lì abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati. Tieni presente che da un punto di vista politico la parte che riguarda l'acqua interna da Roma si gestisce male, perché come ben sai oggi è tutto con leggi regionali, quindi la parte dell'acqua interna la seguono molto meglio i presidenti dei comitati regionali che sono a diretto contatto con la regione e possono interagire, interloquire. Invece a livello del mare è ancora tutto centralizzato, le regioni ancora non hanno leggi regionali o pochissime, quindi va lavorata a livello di ministeri. E lì non è facile, perché io quando ho cominciato pensavo benissimo, vado a quel ministero e parlo. No, sul mare ci insistono sei o sette ministeri, con ognuno le sue competenze, spesso in disaccordo l'uno con l'altro, non è facile, non è affatto facile. Poi cambia un ministro ogni tre giorni, quindi la cosa è veramente difficile. Però abbiamo fatto dei passi al gigante, siamo stati rinunciuti al Ministero delle Politiche Agricole, siamo nella Commissione, ora l'Italia è entrata nel RACMED che si occupa di tutta la gestione della pesca nel Mediterraneo. No, abbiamo una serie estremamente importante di risultati a livelli di riconoscimento. siamo arrivati alla FAO, all'FAO, quindi siamo, da un punto di vista politico, siamo veramente migliorati tanto. Bisogna continuare, perché non possiamo mollare neanche un centimetro. C'è stato Presidente anche recentemente una riunione, mi sembra, in Marocco, no? Cos'era? L'ICAT? Era l'ICAT. L'ICAT è quella che gestisce le risorse in mare dei pesci che sono considerati una risorsa, quindi tutti i tipi di tonni, sia dal tonno bianco, l'ala lunga, sia dal tonno rosso, ovviamente, che poi è quello più importante di tutti, ma tutti, agli squali, naturalmente, e a tutti i pesci considerati, diciamo, a rischio. E l'ICAT è quella che distribuisce le quote, è quella che decide la quota di pescato che si può tirare fuori, comprendendo, ovviamente, principalmente, i professionisti, ovviamente. Quindi la riunione era estremamente importante, e anche lì siamo andati, come Italia, ci eravamo, ci conoscono. No, da un punto di vista politico, ci stiamo muovendo, lì c'è un gran lavoro da fare perché era una cosa che la federazione non aveva mai seguito con grande attenzione. Ok, grazie Presidente, in bocca al lupo. Grazie mille. A Stefano Sarti vorrei fare innanzitutto le congratulazioni perché ha vinto la stella al merito, la stella di bronzo della federazione per meriti sportivi. Quali sono i suoi meriti, Sarti? Diciamo che più che meriti sportivi è l'attività svolta all'interno della federazione come dirigente sportivo. Come dirigente. Come dirigente sportivo, non come attività sportiva. È una stella che viene ricondotta, in particolare, parliamo degli ultimi anni, credo ai giochi mondiali del 2011, dove ho fatto parte del Consiglio d'amministrazione, dove ho organizzato tutta la mole dei campionati del mondo in mare. sta solo. Ma è un uomo dai mille risvolti, perché oltre a questo noi sappiamo che è il presidente della sezione FIPSAS di Massa Carrara ed è il responsabile della comunicazione della FIPSAS. Tutti questi impegni come fai a portarli avanti, Stefano? Devo dire che è dura, è dura. Parecchio, cioè qui si è impegnati tutti i giorni, occorre lavorare veramente, questo è diventato veramente un lavoro. Lavoro che si fa anche con passione, perché poi quando si raggiungono certi obiettivi e si cresce e si portano nuove proposte, nuove idee, è sempre un momento di crescita anche personale. Pensiamo solamente, grazie proprio a Tu che parli, del TG FIPSAS, che è una realizzazione della comunicazione, i filmati che quest'anno sono andati in onda, che vanno in onda su Italia Ampice TV, ma anche i filmati che vanno su YouTube. Abbiamo raggiunto degli ascolti veramente da record anche su YouTube. In ultimo, ma non per importanza, Satti è anche, come dire, il Deus Ex Machina di questa manifestazione, Mondo Pesca, che è arrivata alla terza edizione e che ho visto tra l'altro quest'anno c'è stato un battagio pubblicitario incredibile, sia a livello di quotidiani, a livello di internet. Tu entri in un sito e arriva Mondo Pesca. Vorrei tornare indietro di una diecina d'anni quando io insistevo con l'ente Fiera e con alcuni produttori sull'importanza strategica di una Fiera della Pesca a Marina di Carrara, dove c'era una struttura fioristica stupenda, sottoutilizzata, e poteva essere un centro perfetto per una Fiera di Pesca. Questo, alla fine, poi, si è avvicinata alla pesca professionale, si è stato un abbocamento col direttore della Fiera e subito è nata una collaborazione. È partito un lavoro straordinario. Guarda, questa Fiera ne sono orgoglioso, anche perché abbiamo raggiunto, come tu pensai, dei risultati eccezionali. Basti pensare che, grazie proprio a questa Fiera, siamo riusciti a realizzare, verranno realizzate, quest'altro anno, due barriere sommerse. Questo proprio grazie a questa Fiera e grazie a tutto quello che si è svolta. Quest'anno un pubblico eccezionale, un'attività, grazie anche ai produttori, perché voglio ringraziare Tubertini, Colmici, Trabuco, che con loro... Sono presenti anche con loro stand ufficiali. Esatto. Questo è molto importante, perché i produttori devono mostrare le nuove tecnologie e i negozi devono poi venderla, questa tecnologia. Un connubio perpetuo, all'interno di questo connubio poi abbiamo inserito la parte ludica, convenistica, abbiamo messo una parte dei simulatori, una parte dei giochi dei simulatori. Solo una cosa vorrei aggiungere in questo particolare momento. Il mio ringraziamento, io sono un po' quello che sovraintende tutto, però devo ringraziare, perché questa Fiera non sarebbe possibile senza gli oltre 30 volontari della sezione provinciale che lavorano tutti i giorni a questa Fiera, ma non solo durante i tre giorni della Fiera, ma è da una settimana che sono in Fiera a montare le vasche per i pesci, perché dall'altra parte abbiamo anche delle vasche per i pesci, che sono riusciti a realizzare. Senza di loro non sarebbe possibile fare questo. Tra l'altro, con tutto quello che è successo in questa zona 15 giorni fa, questo è un tasto veramente dolente. Noi come associazione provinciale già lo scorso anno ad Aula abbiamo avuto oltre 40 mila euro di danni al lago e alle strutture, alla macchina con la quale facciamo i ripopolamenti e collaboriamo con la provincia. Quest'anno il colpo di grazia alle nostre aule didattiche, il fiore all'occhiello dell'associazione provinciale praticamente le abbiamo distrutte. È andato perso tutto il materiale elettronico e sarà duro a ricostruirlo. Abbiamo stimato danni per oltre 20 mila euro. Questo sarà... dovremo ricostruirlo e sarà un bel percorso e sarà una bella sfida per il futuro. Purtroppo, due giorni dopo Mondo Pesca, si è abbattuto su Carrara un altro diluvio con una seconda alluvione che, fra le altre cose, ha distrutto gran parte delle attrezzature e dei materiali della Fipsas in fiera. Ricordo a tutti che nel primo fine settimana di dicembre sono in programma a Bologna le assemblee elettive per il prossimo quadriennio olimpico che porteranno al rinnovo delle cariche della federazione sia a livello di settori che di presidenza. Di questo, comunque, vi daremo naturalmente notizia in un servizio più avanti su Italian Fishing TV. Laurare un in bocca al lupo alla Lenza Emiliana Tubertini che proprio in questi giorni sta affrontando il campionato del mondo di Canada natante nelle acque iberiche. Saluto tutti voi, cari amici, che ci avete seguito con passione durante tutta la stagione. Vi auguro di chiudere nel migliore dei modi questo travagliato 2012 e vi aspetto a primavera con il prossimo ciclo di trasmissioni del TG Fipsas. Ciao a tutti!